Ciao a tutti, ci sono novità dal fronte, andiamo subito ad Avdivka, dove i russi stanno spingendo veramente forte verso la strada industriale. Ne abbiamo parlato nei video precedenti, i russi vogliono cercare di tagliare questa strada, occupare un lembo di questa strada, della strada industriale appunto, per cercare di rendere la logistica degli ucraini che difendono la città veramente ardua e difficile. Abbiamo anche detto che c'è in teoria un'altra strada, questa strada qua, però non è pavimentata, questa strada qua prosegue per diverse centinaia di metri a Scheverne, però diciamo che Scheverne non è proprio libera dalla presenza dei russi. I russi, come vedete, sono in questi campi, possono bombardare la strada che tra poche settimane, tra qualche mese, probabilmente vedrà lo scioglimento delle nevi e vedrà appunto palta, fango e via dicendo, quindi renderà veramente un incubo per i mezzi muoversi avanti e indietro dentro Avdivka. A questo punto che cosa rimane da fare? Gli ucraini devono cercare assolutamente di resistere, qua come vedete la mappa da il deposito dei bus già preso dai russi, anche se questa è una zona ad ora contestata, ci sono combattimenti veramente furiosi, bisogna capire i russi dove cercheranno di andare a colpire per prendere un lembo della strada industriale. Qua c'è una pompa di benzina e poi qua c'è un campo, sicuramente gli ucraini hanno trincerato questa zona, sicuramente ci sono delle linee di difesa, ci sono delle fortificazioni, bisogna capire i russi se si muoveranno verso questa direzione una volta preso in modo definitivo il deposito dei bus, o cercheranno magari di scendere, di scivolare a sud, cercando di passare, di proteggersi anche con queste case basse, con questa zona di Dace. Bisogna capire, bisogna capire un attimino, probabilmente in questa zona, anche per evitare di stare troppo vicini all'impianto di Kock, i russi tra l'altro si sono avvicinate all'impianto da questa parte e sicuramente cercheranno di isolarlo, come vedete i russi non è che sono scesi in maniera frettolosa, anche per la strenua difesa degli ucraini, non sono scesi in maniera frettolosa verso la strada industriale, cercano comunque di andare in modo graduale, nonostante poi il fronte qui a nord sia stato sfondato. Come vedete sono anche arrivati da sud verso sud, cercando di prendere questa zona qua, dei laghi, i cosiddetti laghi blu della Cava, hanno preso questa zona di case basse e stanno cercando di penetrare nella zona residenziale qua di Avdivka, cercando di arrivare ovviamente, l'obiettivo dovrebbe essere cercare di avvicinarsi al distretto 9, alla cosiddetta cittadella, per poi ricongiungersi con le forze che sono qua a sud. Comunque qua, come dicevo, ci sono ancora combattimenti, siamo veramente a poche decine di metri dall'obiettivo principale delle forze russe in questo settore. Una volta presa la strada industriale, una volta mantenuto un presidio, una volta mantenuto il controllo, in un lembo, non serve conquistarla tutta, in un lembo di questa strada, veramente per gli ucraini sarà critica, la situazione sarà veramente molto critica, perché senza gli approvvigionamenti, questa strada, lo abbiamo detto, nelle scorse settimane e negli scorsi giorni è stata pesantemente bombardata dall'artiglieria e dalle forze aeree russe, però una volta presa veramente verrebbero interrotti i rifornimenti, il munizionamento e via dicendo, tutto il necessario per combattere, e quindi per gli ucraini veramente la situazione sarebbe perlomeno drammatica. Ripeto, c'è questa strada qua, ma tra pochi giorni sarà veramente in una situazione critica anche questa strada e quindi le linee di comunicazione saranno fortemente a rischio. Adesso i russi devono, come ho già detto, razionalizzare comunque tutto il fronte, come vedete hanno preso una parte di questa strada, sono avanzati verso ovest. Vedremo se riusciranno a prendere in un accerchiamento, in una tenaglia, l'impianto, la stazione di filtraggio qui collocata, ma soprattutto abbiamo un video dei russi in questa zona qua. C'erano stati negli scorsi giorni dei contrattacchi ucraini, anche corazzati, e anche di questo abbiamo video, però diciamo che i russi adesso in questo video, come potete vedere, sono tra virgolette abbastanza tranquilli. Stanno svolgendo compiti di pattugliamento, possiamo vedere della fanteria russa che sta pattugliando le famigerate ormai tre strade di questa zona residenziale a sud di Avdivka, quindi si direbbe che la zona potrebbe essere stata, come dire, messa in sicurezza da parte russa e i russi potrebbero aspettare, prima di spingersi verso il distretto 9, che come abbiamo detto è fatta di palazzi alti ed è pesantemente fortificata, prima, come abbiamo detto negli ultimi giorni, negli ultimi video, i russi dovrebbero razionalizzare i loro possedimenti cercando di prendere questa zona, ma che resiste. Gli ucraini stanno resistendo, stanno resistendo nonostante gli approvvigionamenti scarsi, nonostante le rotazioni che ormai sono anche quelle, anche esse, scarse, gli ucraini hanno problemi di uomini, di munizionamento, ma nonostante tutto comunque stanno cercando di fare di necessità virtù. I russi comunque sono avanzati da questa parte e probabilmente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, una volta presa, una volta preso un lembo della strada industriale, potrebbero spingersi verso Sceverne, per prenderla e rendere così inutilizzabile questa strada, possiamo dirla, sterrata. A quel punto veramente sarà un accerchiamento operativo, cioè sarà veramente un accerchiamento fatto e finito, nonostante poi ci siano delle zone di campi e quindi la fanteria, volendo, potrebbe anche muoversi qualora ci fosse un ordine di ritirata, però immaginatevi in campo aperto sarebbero veramente preda di artiglieria, droni e via dicendo, non sarebbe proprio il massimo. Chissà, adesso vedremo, c'è un nuovo comandante in capo, come sicuramente saprete, c'è Sirski. Zaluzhny è andato via, è stato mandato via dal presidente Zelensky, vedremo, probabilmente Sirski cercherà di tenere la città il più tempo possibile, seguendo un po' quello che è stato fatto a Bakhmut, questo perché gli ucraini vogliono, presumibilmente, si pensa che vogliono creare una nuova linea di difesa nell'interno, cercando di evitare uno sfondamento del fronte da questa parte per difendere l'obiettivo strategico, credo che sia Pokrovsk, questa cittadina qua, che è una delle città maggiori nella zona. Dopo Avdivka, vedremo, vedremo, secondo me questa è un'idea, se posso dirvi, darvi un'opinione personale, io avrei cercato di risparmiare le truppe, proprio perché, e questo lo dice anche la stampa occidentale, c'è veramente una penuria di uomini, di uomini ben addestrati, soprattutto tra le file ucraine, io avrei cercato di risparmiare delle truppe esperte, ci sono anche truppe esperte, ce ne sono anche di inesperte, ma io avrei cercato di risparmiare alcune delle truppe che stanno adesso, sono coinvolte nei feroci combattimenti per la difesa di questa città di Avdivka. Però, come dire, Zelensky evidentemente sta prediligendo delle valutazioni politiche su valutazioni militari e Sirsky obbedisce da questo punto di vista. In questo Zaluzhny era molto più indipendente ed era molto più, come dire, militare. Vedremo quali saranno gli sviluppi, però, veramente qua per la strada industriale, se va avanti come sta andando avanti nelle ultime ore, i russi arriveranno alla strada industriale e veramente per gli ucraini sarà critica, sarà una situazione veramente grigia. Per ora è tutto, dalle altre parti del fronte ci sono dei combattimenti, ma sostanzialmente guerra di posizione. Ci vediamo a un prossimo video.